Sempre la nostra attività è arrivata in un'anno nazionale, specialmente arrivata in un'anno di Batico. Abbiamo avuto 10 per 12, gratis, una cosa che usano è una sala di esposizione che abbia avuto, e anche per aver guardato la nostra storia per la storia. Incluendo abbiamo un'artistica di Osairo Moyali, e anche abbiamo un spielo che abbiamo avuto con la famiglia e il cuore. Abbiamo detto che abbiamo avuto un video di monumento di Fons, che ci sono mostrati molto, che ci sono l'espa di Maki, e che ci sono mostrati diversi. E poi ci sono un'artistica di un'artistica di Orangestad Antigua, che è un'artistica di Raiasana, nella plazia d'Aia Leo, in 2010, in Hafenstra, in Murail Plaza, in 2010, in 2010, in Cocolici, in 2014, in 2004, nel Museo Històrico, che raccontano una storia che, sicuramente, con la sua società di complessi di un'artistica di un'artistica di un'artistica, perché il nostro ricca di un'artistica di un'artistica di un'artistica di un'artistica, perché abbiamo provenque di un'artistica di una storia di un'artistica di un lato di deprivano, In tutto il caso, il nostro lavoro è tenuto in 3 giorni, quindi di 10 giorni per 2 giorni, continuamente diverse attività, per attenderci liberamente e gratuitamente. Da che il Dio di Batico ho avuto a portare, non so quanto è stato, ma questo museo è stato di 1981, ma questo Dio di Batico è sempre, 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 ma questo un valore, molto importante e stiamo attivando acqua di ogni forma, se noi vogliamo educa多 di nostra gerencia culturale, oppure se noi vogliamo incontrare il nostro libertatore. È passato con il Masha, molto, molto molto, tipo di materiale archeologico, con una cia, con una cia, con un coucherie, con un cio, ci sono altri tipi di materiale che dà molti, molti, molti mesi, però il riba Xengmil è sicuro, sicuro, sicuro. Sì, voglio dire che il Dio di Baticota è un giorno che ci vuole dedicarci alla nostra cultura, e ancora ciò che vi ringrazio la nostra cultura di l'Agnostra di l'Antonio, preistoria, per il periodo storico e moderno, che è un museo arqueologico, ciò che ci vuole un'attività e informazione, che ci sono invitati alla nostra famiglia, e soprattutto in Montionang, perché per Montionang c'è un'attività, e per il miglior e sicuro, quindi per un minuto di Gessor, per due giorni nel museo, o per due giorni di Gessor, o per due giorni di Gessor, in ogni momento c'è un'attività.